Correva l'anno 2001, era il 4 novembre e Toro Milan è un posticipo serale al delle Alpi. Finisce 1-0 con gol neanche a dirlo di Cristiano Lucarelli, uno che contro i rossoneri ci ha sempre messo cuore, anima e polmoni. E' l'ultima vittoria dei Granata contro il Milan, poi 12 anni di digiuno. Un'astinenza durata anche troppo, specie alla luce delle ultime stagioni, avare di soddisfazioni e soprattutto di vittorie di prestigio contro le grandi del campionato. Sprazzi di bel gioco lo scorso anno con Juve, Fiorentina, Napoli, Inter e anche Milan, ma alla fine poche briciole per la classifica e tanti rimpianti. Unico acuto contro la Lazio, vittoria nobilitata poi dalla conquista della Coppa Italia, proprio da parte della squadra capitolina. Un po' poco per il blasone e per il tremendismo del Toro. Gli archivi del calcio e le statistiche, oltre che la pazienza dei tifosi, reclamano finalmente una vittoria contro una Big. Species, la Big in questione, ha da poco strappato il biglietto per la Champions e ha in squadra calciatori del calibro di Balotelli, El Sharaoui, Robigno e ultimo cavallo di ritorno un certo Kakà. E poi c'è da cancellare lo scivolone di Bergamo, senza contare l'1-2 in rapida successione di metà mese con Bologna e Verona, due partite che stanno già tanto di punti salvezza. Insomma, con i rossoneri, partita e stimoli per la classifica e per il morale. Operazione Milan dunque iniziata lunedì mattina alla Seasport, cinque giorni per decidere come e con chi affrontare l'11 di Allegri. Ventura spera di poter raccontare su un recuperato Matteo Brighi e di poter buttare nella mischia fin dal primo minuto Giovanni Pasquale, ultimo acquisto del mercato con cui la dirigenza del Toro proverà a far dimenticare la telenovela Goulam e il poco edificante affare d'Ossena, rispedito all'emittente dopo le visite mediche, quando ormai l'affare sembrava chiuso. Torna prima del previsto Kamil Glick, l'ammunizione rimediata contro il Montenegro con la maglia della Polonia, lo esonera dalla gala con San Marino e lo proietta già in clima campionato. Gli altri nazionali, Churchill, Caduri, Bascia e Maximovic, torneranno mercoledì. E sarà proprio la difesa del reparto più sollecitato, dopo le amnesie con l'Atalanta, le stesse che però ha palesato anche l'attacco drammaticamente a secco contro gli Orobici. Per l'anticipo di sabato sera al Comunale saranno 8.780 gli abbonati, 241 in più dello scorso anno. Lontano dunque le a traguardo delle 10.000 tessere, fallito anche in questa stagione. E c'è già chi parla di poca corrispondenza di amorosi sensi tra società e tifosi, con questi ultimi che stentano a riconoscersi nelle priorità e nello stile dell'attuale dirigenza Granata. O sarà per i mancati colpi di mercato? Non c'è stato un vero e proprio acuto. Anzi, salutati capitano e vice al secolo Bianchi Ogbonna, perso il gilet per squalifica, il Toro ha avuto anche qualche tentenamento su Cerci.